Eccoci, adesso l'avete visto, a questo punto metto la patata tagliata a spicchi, si vede meglio il colore giallo, e a questo punto ci vuole mettere il giallo con un pochino di sale e il pepe nero perché la patata ha bisogno sempre di sale. Alternative di che carne possiamo usare in questo piatto? Agnello, pollo, tacchino, si potrebbe fare anche secondo me con la carne normale, però il gusto viene meglio con qualcosa da rosicchiare. Mettiamo un po' di sale, delle patate e un pochino di pepe, la lascio a fuoco lento e che ogni tanto ci deve aggiungere un pochino d'acqua. Questo piatto già basterebbe da solo, per mangiare che c'è la patata, la carne, l'olio e tutto completo. Volendo poi facci un po' di riso soffritto e te lo mangi, col couscous non ce lo vedo. Invece la mofum, alla fine è il couscous, però si può fare anche con il riso fritto che è benissimo. Tocco il punto di fare il mofum, riso soffritto, un po' di cerci e vieni ora, vediamo vediamo. Ok? Poi vediamo com'è. Va benissimo. Grazie. Grazie.